ragazzi guardate cos'è arrivato uno dei titoli più attesi della games workshop del 2021 che quando l'ho visto nell'anteprima su twitch mi è preso un colpo e manca poco svengo si parla di cursen city città maledetta nella nostra lingua gioco di miniature e nuovo stand alone della serie di warhammer quest che aspettavo da morire e questa volta si parla di cacciatori di streghe di fantasmi di vampiri e dentro la confezione c'è tutto per ricreare un'ambientazione gotica e degna veramente di bram stalker e dracula roba spettacolari di altissima definizione e a breve il video grazie